Allora questa è la seconda parte e altre nuove bustine del set base. Partiamo con la prima di sabbia. Le sto aprendo veramente malissimo. E abbiamo energia lotta, energia elettro, pupa, che è la rara. Quella è la del trucco. Quella è la del trucco, superpluzione magica, magma, magica, charmander, pg, ventata, draugy e spirito. Era quella? Si. Qualcosa di buono, mamma. Mannazzo. Paffa, lo prendo bene. Adesso. E' la... Aspetta. E' la seconda. Cos'è qua. Dove è il best? Charmila. Plus potenza. Vulpix. Polywag. Koffig. Starmie. Diglett. Oh, un'altra Ninthels. E' questa la rara. Un'altra doppione. Un'altra una. E' cagò. Un'altra, sempre di... Charmila. Un'altra. 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 e abbiamo energia energia Zappodoss bellissimo foil farfetch super porzione magica gratini squirtle ambrio scambio tango e onyx così più spadenza cacuna recupero totale ventata caterpie magna diglet scambio energia e charizard e l'hai presa amo e ci sta charizard brava amo perfetta charizard adesso con la blastoise io sono andato sempre più bravo ad aprire le bustine questo lasso di demo addirittura si spezzà come erano? che cosa? come hai fatto? ah devi contare il primo e la terza cosi uno due e la terza di qua sotto dopo c'è la rezardo non ci poteva uscire niente e abbiamo questo rock wow energia 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 e super rimozione di energia l'addestramento pulso l'aria come una sini si si una las Sono troppo appiccicate Guarda questa bustina Sta morendo questa bustina Aiuto È morta Sto pure a sbrillucci con la sanda Sì Non so è un altro colore Cento non ho visto Cento Pokémon Difensore Mide, Rino, Bulbasaur Pidgey Wolfpix Bostor Stider Energia È un altro Zapdos Foil Complimenti Voglio aprire questa Basta Non ci vuole più ormai ad aprirle bene La terza sotto Abbiamo Energia Energia Oggetti smarriti Cadabra Recupero di energia Grolith Minerite Rattata Vulpix Metapod E Sanctuary No abbiamo sbagliato La rara Oggetti smarriti Io non riesco a fare questo fatto di mettere la rara Che si vede Che si vede Sanno incontate la randa Rappatata 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 Portata bullpix nido, oh un altro, ghastly energia, energia, ah no, cenci, mi sono sbagliato con clefery e cenci oro l'ultima di questa parte del video si, ma edi come amo devi contare due ed è questa allora farfetch di hugo professor hawk onyx ghastly abra grazi squirtle energia energia e l'ultima rara fidget ricapitolando ci sono usciti cenci oggetti smarriti zaplos charibor zaplos super rimozione di energia ninet e puva al prossimo video Grazie.